Bene ragazzi, ciao a tutti e ben ritrovati. Oggi ci troviamo qui per un velocissimo unboxing di Nokia Lumia 1320, quindi phablet di Nokia dal prezzo abbastanza basso e dalle caratteristiche medie, ma che poi approfondiremo meglio nella video recensione. Quindi 6 pollici di schermo, dimensioni abbastanza considerevoli, ma molto più portabili rispetto al 1520 secondo me. Vediamo cosa c'è dentro la scatola, ovviamente non c'è la clip perché il 1320 si può aprire togliendo la cover, adesso non riesco qui che è abbastanza complicato. Abbiamo le classiche istruzioni, il caricatore, il cavetto dati e cuffie non in-air, quindi cuffie normali. Bene, questo è ciò che c'è nella scatola, è tutto con questo unboxing, ci vediamo presto per fare la recensione di questo Nokia Lumia 1320. Ciao a tutti ragazzi da Daniele.